Non fa per voi, non fa per voi, non fa per voi. Bene, ora che chi è fotosensibile è uscito, possiamo iniziare the parking lot. Eventamente la nostra macchina, dove cavolo abbiamo parcheggiato? Non so, primi K per... Ah, quella là, beh, qui sta. Oh, sono incassata. Eh? Ma, era qua? Scusa? Ma cosa? È quella macchina lì, eh? Qualcuno se la deve stare sprendendomi il gioco. Sì, frate, ma non è che uno ti sposta la macchina. Così. Chi è là? Questo non è divertente. No, regà, hanno spento le luci. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Cosa devo fare? Cosa faccio? Corri, dove? Dove? Dove corro? Esci da qua. Devo andarmene da questo posto. Sì, 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 ce ne andiamo. Ce ne andiamo subito. La corrente deve essere tornata. Ora deve poter usare l'ascensore? No, frate, qua ci investe. Madonna, madonna. Devo trovare un altro modo per uscire? Eh... E come scendiamo? No, 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 no. Quella macchina si attiva. Sembra essere rotto. Andiamo a piedi noi, frate. Dai che ci passi, cosa sei? Dovrei provare ad entrare nella mia macchina. Di cosa potrebbe mandare storto? Non lo so, tipo, essere ucciso? Dico. Dico, eh. È quello che penso? Secondo me, fra moriamo. Muori, grazie. Molto gentile. Sempre molto gentile. Oddio. Finita così. Ok. 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 Iniziamo con Kitty Kart 64, che è quello che vi arriva da Wish, quando ordinate Mario Kart. Vai. Ah, devo usare la tastiera. Ok. C'è pure il multiplayer, ragazzi, incredibile. Single player. Vediamo. Perché con Shift vado all'indietro, esattamente? Scusate, no. Io schiacciavo Shift e le breccelle, ma andavo indietro. Ok. Ok. Vai. Ma non potevi giocare a Mario Kart originale, no? Kitty Kart è molto meglio. Non mi conta i giri, ragazzi. Ma posso andare lì? Oh, sì. C'è il fumo qua. Oh. Dobbito a rompere il gioco, no? No. Attenzione. Vai. No, effettivamente si cadeva. Sì, effettivamente. Oddio. Um. Stiamo sprofondando. C'è qualcuno là? Eh, siamo morti. Ma dove siamo? C'è una signorina in acqua. 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 Il deserto dovrebbe essere caldo? Non riesco a sentire nulla. Mi fa piacere che non senti nulla. Giuro, io non ho fatto niente, ragazzi. Ma è morto? Sento qualcosa adesso. Bello. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa devo fare Ragazzi aiuto Ok E la linea di giocatori che hanno cercato prima di me Può essere Ah 30 poloncini devo fare Ma mi sa che sto uccid... Ragazzi Siamo esplose anche noi? Ma siamo sott'acqua? Ci sono i pesci? Sono confusa in questo momento Proviamo a non seguire le luci Vediamo dove finiamo Capito tutto Grazie Capito tutto ragazzi Rilassante sto gioco Sì non stiamo a fa un cazzo Ragazzi mi sa che siamo... Un riccio che piange Praticamente noi in ogni livello dobbiamo riuscire tipo a morire o non lo so a incastrarci in qualche modo Salve Capito tutto No ma ho capito tutto signore Grazie Grazie per la direzione A voi ci stava a dire tornare indietro Guarda qua 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 la rampa Ma non è che noi ci siamo tipo suicidati in acqua Ma che sono le backrooms raga? Raga Raga le backrooms con le frecce Oddio vado di sotto Anche se di là ho visto una freccia Almeno non ci sono i mostri Effettivamente L'ho detto Adesso Raga Mica jumpscare Vado giù? C'è il Nemesis Boh ma spero di no La fine C'hanno No non ci credo No non ci credo No non ci credo No non ci credo Grazie Grazie che trauma Posso dirlo scusate Mi ha un po' traumatizzato Oh ah 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 Grazie a tutti.